buongiorno a tutti davanti un buon caffè la lazio ha venduto biglia e aggiungere finalmente perché sinceramente non se ne poteva più va non va va non va è stato accontentato giocatore contento lui contenti tutti cioè la fine giocatore 30 anni medio ma è buon medio livello niente di che va via va a giocare a milano meglio per tutti anche visto il clima che sarà che si era creato intorno a lui questa volta la società mi è piaciuta perché ha fatto un gesto che a parte che è stato intelligente che l'ha portato il ritiro cioè almeno ha fatto smuovere l'acqua nel senso che fino a che giocatore stava a roma e mi dice tanto tu non lo fai giocare invece no io mi porto il ritiro visto che è tesserato con me e lui non è stato professionale non è stato professionale perché secondo me un giocatore fino a che fino all'ultimo secondo del contratto dovrebbe andare e andare dentro gli spogliatori tranquillo giocare allenarsi perché è pagato per quello e una volta era così i giocatori erano molto più professionali poi ci ho parlato del fatto che la società non è stata pronta a fargli rinnovare il contratto ma se lui c'è se è vero che ci sono offerte lui non ha avuto rinnovare poi tante cose non si verranno mai a sapere nulla che la gente dice no perché così così cioè cose interne nessuno dirà mai quello che veramente è successo detto questo puglia se ne va compreremo il sostituto e buona giornata a tutti